Salve gente, io sono Luca e in questo video farò alcuni esempi sull'espressione QUANDO MAI? Facciamo subito il primo esempio. Facciamo finta che un mio amico mi dica Le arance non mi sono mai piaciute. E io, incredulo, gli rispondo Ma come no? Dicevi che erano il tuo frutto preferito e dicevi anche che d'inverno te ne mangiavi anche tre, quattro al giorno. E lui mi fa Ma cosa stai dicendo? Quando mai ho detto queste cose? Quindi capite che il QUANDO MAI è una domanda, ma è una domanda retorica. Cioè fondamentalmente serve per negare quello che è stato detto. Cioè queste cose non sono mai successe. Fondamentalmente lui avrebbe potuto dire Ma cosa stai dicendo? Io queste cose non le ho mai dette. Ma facciamo un altro esempio. Facciamo finta che un mio amico mi dica Beh, alla fine se quella volta non ti avessi prestato quei soldi e io ho stupito, gli rispondo Ma di che soldi stai parlando? Quando mai mi hai prestato dei soldi? Ecco, anche in questo caso, come nel caso precedente il QUANDO MAI fondamentalmente serve per negare e dire che le cose di cui si parla in questo caso il fatto che lui mi abbia prestato dei soldi non sono mai successe. Infatti io avrei potuto dire benissimo Ma di che soldi stai parlando? Non mi hai mai prestato soldi? Ecco, tra la frase negativa cioè non mi hai mai prestato dei soldi e la frase che inizia con QUANDO MAI non c'è differenza in termini di significato però molto spesso noterete che gli italiani iniziano una frase con il QUANDO MAI perché ti viene istintivo iniziarla così perché trasmette proprio lo stupore parte dallo stupore, dall'incredulità che qualcuno dica una cosa che non è vera. Ma facciamo l'ultimo esempio. Supponiamo che io dica a un mio amico ti ricordi quella volta che sei stato morso da uno scorpione? Ma cosa stai dicendo? Quando mai sono stato morso da uno scorpione? Ecco, questi erano gli esempi che volevo fare sull'espressione QUANDO MAI? Spero che questo video vi possa essere utile. Vi saluto.